In collaborazione con Autonoleggio Alidama Qualità e assistenza nell'autonoleggio I Due Re Ristorante e pizzeria Lungomare Piermanni Civitanova Marche Un po' di mercato ha preso Giuliano Rodinelli Proprio sullo finire del calcio mercato Firmato e orientale Non lo faccio Non lo faccio Perché vengo da Manalala 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 Non lo faccio Non lo faccio Manalala E questo è Manalala 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 Buonasera e ben ritrovati Finalmente possiamo dire ben ritrovati Il calcio dilettantistico è ripartito Le marche nel pallone sono ripartite Tempi supplementari di nuovo ai nastri di partenza Dopo un'annata purtroppo condizionata dalla pandemia Dal covid dove l'anno scorso siamo stati costretti ad essere ai box Quest'anno si riparte Prima giornata già consumata Andiamo subito a presentare i nostri ospiti di questo primo appuntamento Partiamo dal presidente della Futura 96 Fausto Rogante Buonasera presidente Buonasera Andrea Buonasera a tutti E l'allenatore Stefano Cuccu Sempre della Futura 96 Buonasera Andrea Buonasera a tutti Allora partiamo proprio con questa prima puntata Delle marche nel pallone tempi supplementari Il contenitore dedicato sempre alla promozione sui nostri canali di TVRS Presidente partiamo da voi Partiamo da questo primo esordio Zero a zero in casa con l'Aurora Treia Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Ma partire già partire evitando una sconvitta non è male Certo da una partita in casa magari ci si poteva aspettare qualcosina in più Però non dimentichiamo che avevamo di fronte una squadra solida Ben impostata noi abbiamo avuto le nostre occasioni due traverse due volte davanti al portiere Però quando la balla non entra poi ma tutto sommato diciamo che ci accontentiamo per il momento L'opinione del mister due punti buttati al vento o va bene anche così? E' andata così sicuramente potevamo far nostra la partita Abbiamo sprecato e concesso perché a un certo punto potevamo anche perderla Quindi abbiamo sbagliato in certe occasioni Zero a zero che ci sta quindi contro una squadra molto organizzata molto ordinata Quindi prendiamo questo punto e cerchiamo di fare meglio la prossima Presidente è stato un fine settimana di rinascita no possiamo dire perché per noi appassionati di calcio Quello che è successo negli ultimi anni, negli ultimi paio d'anni L'anno scorso con un blocco poi totale del campionato di promozione è stato complicato per tanti motivi Qual è la tua emozione, il tuo sentimento in questa ribartenza no? Perché parliamo proprio di una rinascita fondamentalmente Sì effettivamente la possiamo definire proprio una rinascita Dopo un anno e mezzo perché sì è vero che avevamo giocato una partita la scorsa stagione Ma poi tutto è finito lì quindi non lo consideriamo neanche un campionato iniziato Effettivamente è stata una rinascita, aspettavamo tutti con molta ansia, con molta adrenalina in corpo questa ribartenza Perché tutti volevamo un attimo ribartire, concederci questo svago, chiamiamolo così Ma che poi alla fine è un impegno però noi che siamo dell'ambiente non ce la facevamo più Ecco per la società, per le società in generale è ancora più difficile no? Perché bisogna rispettare protocolli, regole, green pass alla partita Un'organizzazione a parte no? Per far entrare le persone Il tutto rientra comunque in questa grande passione che abbiamo per il calcio E quindi no? Nella voglia, nella determinazione da parte vostra come società Di poter mettere in campo tutte queste regole da dover rispettare Sì effettivamente come dici tu Non ti nascondo che è stata una settimana impegnativa Molto impegnativa dal lato organizzativo perché un vero e proprio protocollo Venuto dall'alto, chiamiamolo così, non c'è stato Però tutti ci siamo organizzati sentendoci tra i dirigenti Come muoverci su certe situazioni Però ecco, l'organizzazione non è stata semplice Perché dai green pass Le misurazioni Ma anche e soprattutto anche ieri Con il pubblico, il ringresso in campo del pubblico Io sono stato due volte, in settimana sono stato due volte dalla questura Cosa che non succedeva mai Però quest'anno purtroppo è così Però penso che siamo riusciti bene ad organizzare il tutto Io sono sicuro che con un po' di attenzione Da parte di tutti Riusciremo a portare avanti questo campionato Mister, c'è un po' meno tensione Rispetto all'anno scorso sul discorso Covid C'è forse anche una cultura Magari da parte di tutti i ragazzi Che si sono vaccinati o comunque stanno rispettando le regole Le società, immagino anche la vostra Cercate di essere molto precisi, molto scrupolosi Come la stai vivendo da dentro nella tua realtà Questa situazione di quest'anno Magari anche rispetto all'anno scorso Sicuramente c'è più consapevolezza Quindi tutti rispettano le regole Tutti sanno come comportarsi E mano a mano tutti si adeguano Gli adattamenti che mano a mano vengono fuori Noi già dall'anno scorso rispettavamo moltissimi protocolli Quindi c'era proprio questo desiderio di andare avanti Noi ci è dispiaciuto l'anno scorso di aver terminato Ma per ovvie ragioni non si è potuto andare avanti Adesso ci teniamo a continuare Quindi tutti remano nella stessa parte Noi come penso anche le altre squadre Quindi c'è fame di calcio C'è voglia, c'è desiderio Perché io sono cresciuto in mezzo al campo E' il posto dove sto meglio Ecco parliamo un po' della tua carriera da giocatore Perché oggi sei qui nelle vesti di allenatore E che ormai stai facendo da diversi anni Ma hai avuto la fortuna Possiamo dire di fare il calciatore A livello anche professionistico Perché l'esordio in Serie B con l'Ascoli Due presenze C'è diversa Serie C nella tua carriera Tante formazioni Teramo, Tolentino, Russi Poi ne dirai tu anche altre Hai fatto il calciatore a buonissimi livelli Adesso immagino che cercherai di emergere come allenatore Sì, ho vissuto praticamente sempre in mezzo al campo E' dove sto meglio Quindi ho vissuto tanti spogliatori Tantissime squadre C'ho tanti ricordi Tutti belli Perché anche le sconfitte Portano con sé qualcosa di buono Quindi spero da allenatore di fare meglio Non è semplice Perché molte cose sono cambiate rispetto a prima Adesso bisogna lavorare con molte più incognite Prima c'era la dedizione del giovane E la voglia del giovane Adesso c'è purtroppo quasi il meno desiderio di emergere Quindi cellulare, queste cose che ho purtroppo Dettagli importanti Che forse chi gioca in promozione Pensa di non riuscire a emergere Invece sono proprio quelli che fanno la differenza Esatto Veramente Se un giovane capisse quanto poco ci vuole per emergere Soprattutto adesso dove ci sono tante distrazioni Secondo me riesce molto più semplicemente di prima Ad arrivare a destinazione Quindi a A crescere professionalmente Esatto A crescere E se c'è un sogno a viverlo a pieno Insomma ecco Senti sul discorso vaccino nella vostra squadra Senza entrare magari nei dettagli dei nomi Però com'è stata la risposta dei ragazzi E qual è stato il vostro messaggio? Un obbligo o meno? No Da noi non c'è l'obbligo del vaccino La maggioranza della squadra è vaccinata E chi non lo è regolarmente fa il tampone Come richiedono i protocolli Quindi noi siamo tutti attenti Affinché le cose vanno bene E a rispettare quello che è giusto rispettare Allora nel weekend abbiamo detto C'è stata la prima giornata del campionato di promozione Io pregherei adesso la regia di mandare in onda il tabellino Con il girone A della prima giornata E poi chiaramente anche la classifica Quindi pregherei la regia di mandare in onda Dalla prima giornata del torneo di promozione Girone A Eccola qui Gabicce Gradara 1-1 Osimana Portuali 1-1 Sassoferrato Genga Vigoro Castelfiardo 0-0 E Villa San Martino Barbara 0-1 Per una classifica che è molto semplice Chiediamo alla regia anche la classifica Del girone A del torneo di promozione A tre punti ovviamente le formazioni che hanno vinto Quindi Mondolfo, Filottranese, Valfoglia, Passatempese, Barbara A quota 1 Fermignanese, Loreto, Osimana, Gabicce Gradara, Portualio, Limpia Marzocca, Vigo Castelfiardo e Sassoferrato A quota 0 Cantiano, Moglie Vallesina, Villa San Martino, K Spor Montecchio e Osimo Stazione Mister Stefano non è il vostro girone Però immagino che un'occhiata comunque glielo dai Qual è la sorpresa di questa prima giornata? La sorpresa tra virgolette che forse non ha vinto l'Osimana Essendo magari la corazzata del girone Ma ci sta sicuramente perché è la prima giornata Quindi magari ancora non è al massimo dei giri Una piazza importante con giocatori altrettanto importanti Parliamo di Chiodini, Patrizzi, Prosman È arrivato da poco anche Buonaventura Giocatori che magari tutti i sogni nella tua rossa No, no, giocatori sicuramente C'è ovviamente, ma ne conosco anche qualcuno Giocatori di altre categorie Quindi che sicuramente danno una grossa mano ai compagni Per fare bene quest'anno Girone A che come dicevamo magari lo segui un pochino di meno Ci sono state tante vittorie esterne Parliamo della Filottranese, Barbara, Valfoglia, Passatempese Quali sono le squadre secondo te che potrebbero dare del filo da torcere A questa Osimana che è sulla carta un po' la più forte? Io spero la Filottranese Perché ha una buonissima guida tecnica È un mio ex compagno di squadra Quindi faccio il tifo per lui E spero che ha dimostrato negli anni che fa sempre bene Arriva sempre lì lì Speriamo che quest'anno se la giochi fino alla fine con la Osimana Allora abbiamo parlato del girone A con i tabellini E poi la classifica Adesso pregherei la regia di mandare in onda anche i tabellini del girone B E poi successivamente chiaramente anche la classifica Della prima giornata Quindi i tabellini della prima giornata del girone B Del torneo di promozione con la regia che ci supporta Eccolo qui Potenza Picena, Trudica e Monticelli Tutte le altre a quota 1 Ovvero Monte Cosaro, Monte Rubianese e Castignano Corridoni, Atletico Centobuchi Porto Recanati, Civitanovese, Centobuchi Cluentina, Maceratese, Futura 96 e Aurora Treia Presidente, nel vostro girone, il girone B Ho indicato sei formazioni che forse fanno un campionato diverso E le cito in Maceratese, Civitanovese, Trudica, Chiesa Nuova, Monturano e Atletico Centobuchi E tutte le altre che hanno l'obiettivo di salvarsi Magari anche all'ultima giornata Sì, effettivamente Parlavamo anche ieri col mister E anche col nostro direttore sportivo Santarelli Che Questo è un girone, secondo me, è un girone Difficilissimo Nel senso che Tutte le società, tutte le squadre si sono attrezzate Per fare un ottimo campionato Poi, certamente Il campo sarà giudice Di tutto ciò Però, come dici tu Ci saranno delle formazioni Come quelle che hai accennato Che probabilmente, anche se all'inizio Faranno un po' fatica Ma alla lunga Emergeranno Poi Per il resto È tutta una lotta Visto che quest'anno A 18 squadre Il campionato Il campionato sarà durissimo Noi cercheremo di dire la nostra Cercando Come Come le nostre possibilità Di salvarci Di lottare per una salvezza tranquilla E poi Magari Vediamo Ecco, io vi ho visto nella prima partita di Coppa Civitanova, per quanto magari la Coppa può avere un valore inferiore Chiaramente del campionato Però avete dimostrato sicuramente di essere una buonissima squadra Anche e soprattutto nel secondo tempo In campo c'eravate principalmente voi Piuttosto che gli avversari Civitanovese che a mio avviso è una delle più forti O quantomeno negli undici Probabilmente la squadra più forte del girone Adesso dovrà Recuperare gli infortuni Gragnoli Battista in difesa E con ogni probabilità Ci sarà qualche innesto In mezzo al campo Per allungare la rosa Però insomma Avete fatto un'ottima impressione Contro l'avversario Una delle big In trasferta tra l'altro Sì, è vero Abbiamo fatto Una bellissima partita Civitanova Siamo stati sempre lì Ce la siamo giocata Fino alla fine Il ramo è l'unico rammarico Che ci resta Che purtroppo Un nostro giocatore Ha avuto un infortunio Abbastanza Abbastanza serio Speriamo di recuperarlo Al più presto Ma Parliamo sempre di Mesi Non parliamo di settimane Però per il resto Secondo me Ci siamo disimpegnati bene Abbiamo dimostrato Che In questa categoria In questo girone Potremmo dire la nostra Ecco Ma andare avanti Una realtà come la vostra Una piccola realtà Come Capodarco All'interno di un torneo Di promozione Con una serie di squadre Che sono obiettivamente Di categoria superiore Quanto è difficile Dal lato della società Poter mantenere Questo trend Mettiamola così Mi hai fatto una domanda Da Gendo Bundi Come si dice Siamo qui a posto Se n'è vero Ma Noi siamo stati sempre Una società Come si dice Con i piedi per terra Nel senso che Sappiamo delle nostre possibilità Sappiamo quello che possiamo fare Mettiamo in campo Tutta la nostra organizzazione La nostra Come si dice Voglia di fare Al cento per cento Siamo a livello Dirigenziale Non siamo tanti Ma penso che Come tutte le società Perché Io oramai Sono Sono vent'anni Da presidente E vado in giro E vedo che Più o meno Sui campi Le persone Sono sempre quelle Però Come ti dico Noi ce la mettiamo tutta Facciamo il massimo Certo Fare la promozione Non è semplice È un campionato Di livello Un campionato importante Non abbiamo la fortuna Di avere L'under Come Come Juniores Però Cerchiamo Con le società Limitrofe Sant'Elpio La Fermana Società Con cui Abbiamo Delle collaborazioni Anche passate Anche attuali Di poter fare Il meglio che si può Ecco Tutto lì Comunque non è facile Come ti ripeto Hai toccato il tasto under Che è un tasto chiaramente decisivo All'interno di un campionato Come quello di promozione E per voi è ancora più difficile Perché non avete la Juniors Quindi I 6, 7, 8 under Da inserire in prima squadra Devono essere Obbligatoriamente Andati a pescare Come hai detto Nelle altre realtà Questo però Testimonia forse anche Dei buoni rapporti Che avete con tutte le altre società Altrimenti le porte Sarebbero state chiuse Certamente Questo è sicuro Noi abbiamo Rapporti con tutti Buonissimi rapporti con tutti Indipendentemente da Che sia la Fermana In Zaria C Monte Giorgio In D E via dicendo Però certo Non avendo la Juniors Non è facile Noi Come ti accennavo prima Noi fino a qualche anno fa Avevamo tutto il settore giovanile Poi Crisi E vicissitudine varie Ci hanno portato A fare delle scelte Purtroppo A malinguore Abbiamo Portiamo avanti La prima squadra Il settore giovanile Lo abbiamo un po' Lasciato Ecco tutto lì Anche se Come dicevo Negli ultimi anni Abbiamo fatto delle collaborazioni Con la Fermana Soprattutto A livello dei più piccoli Però Non c'è stato Comunque Non è facile Con i ragazzi Non è stato facile Anche soprattutto Quest'anno Io parlavo Con il direttore sportivo Anche con Col mister Quest'anno con il fatto Che le età Non sono cambiate Rispetto all'anno scorso I 2002 Io dico anche Fortunatamente Sulla scuola nostra Hanno scelto di andare All'università Quindi siamo stati Presi un po' Così Noi avevamo 5 4 5 2002 Tutti all'università Abbiamo dovuto Un po' Rienventarci Tutti Tutti i vari ragazzi Non è stato facile Però Penso che Ad oggi Abbiamo una rosa Degli under Parlo Parliamo sempre Molto valida Mi ricollego un po' A quello che ha detto Prima il mister Sul discorso dei giovani Rapportato a 20 anni fa Magari 30 anni fa Il fatto di Non essere riusciti Comunque a creare Una squadra Juniores Può essere anche A causa di una voglia Da parte dei ragazzi Che non è poi così Matta Come poteva essere Fino a 10 15 20 anni fa Altre generazioni Sì Da una parte E' vero Poi c'è E' un discorso Molto Molto complesso Non è solamente Non è solamente Quello Ma io vedo Anche nell'ambito Nell'ambito societario Io non so Le altre società Non vivo Le altre realtà Ma Come dicevo prima Da quello che vedo Andando in giro Anche da parte Dirigenziale Negli ultimi 20 anni Non c'è stato Un grosso Ricambio Noi Dove andiamo Vediamo Molto spesso Le stesse facce Come si dice E questo E' bello Perché ci rivediamo Però Non è Secondo me Non è un buon segno Per le società Perché Non c'è un ricambio Non c'è un ricambio Non finì di noi Non lo so Io spero Io mi sto Insieme agli altri Dirigenti Ci stiamo dando Da fare Per cercare di inserire Anche Anche uno Due Ogni volta Secondo Come c'è la possibilità Di inserire Qualcuno Ma che poi Non è che si pretende Che Questi entrano E fanno subito Chi sa che Solamente Vivere la vita Della società Perché si inizia Tutto con quello Stefano Andiamo un po' più Sul tecnico Di questo Campionato Il girone Vostro Quali sono La prima domanda Quali sono Le favorite Secondo te Le favorite Sono indubbiamente Quelle che hai citato tu Quindi Maggiardese Civitanovese Monturanese Chiesa Nuova Centopuchi Sono queste Squadre più attrezzate Squadre Dal passato Anche storico Quindi Saranno loro A contendersi Questo campionato Uno dei risultati Più interessanti Da analizzare A fine settimana Direi la vittoria Del Monturano Sul Trotica 2 a 0 Due squadre Molto forti Monturano Che fa del gruppo Cioè un gruppo Storico Che giocano insieme Da diversi anni E soprattutto Di una grandissima difesa Secondo me Perché lì parliamo Di un Isidori Viti Cercozzi Finucci Che per fare gol A questa squadra Sarà veramente dura Assolutamente sì Io li conosco molto bene Avendo allenato Isidori Avendo allenato Viti Giocando con Finucci Quando era fuori quota Quindi li conosco benissimo Sono oltre a essere giocatori Molto forti Sono delle persone Autentiche Quindi Con l'anima E in campo Non è un caso Che insomma Da diversi anni Sono la miglior difesa Assolutamente Potrebbe essere La sorpresa Che Se parte In una determinata maniera Te la puoi trovare lì A giocarsela Magari con Maceratese E Civitanovese Che come abbiamo visto Poi ne parleremo dopo Hanno iniziato comunque Chi più Chi meno Con il freno A mano tirato Ma tu l'hai nominata Una sorpresa Secondo me Non lo è La Monturanese È diversi anni Che sta lì Mentre Civitanovese E Maceratese Hanno tra virgolette Quasi un obbligo Di arrivare Loro hanno meno pressione Quindi È un po' più semplice E Secondo me La squadra è molto forte Invece Nella parte bassa Quali sono Secondo te Le squadre Sempre brutto Poter dire Questa è più debole Delle altre Però Parliamo In maniera autentica Quali sono Quelle Secondo te Sulla carta Che hanno Qualcosina in meno Delle altre Guarda In maniera autentica Il campionato Come quest'anno Non c'è mai stato Secondo me C'è un equilibrio Grandissimo C'è squadre Anche le più piccole Sono attrezzate Non c'è Secondo me La squadra Materasso di turno Quindi Sarà molto dura E Sono molto sincero Nel dirlo Perché veramente Anche le squadre Più piccole Hanno Un organico Importante Quindi Sarà dura Allora Noi sabato Abbiamo seguito Due partite Nel girone B Partiamo Dal vedere Le immagini E poi commentarle Qui in studio Di Cluentina Monterubbianese Che è terminata Uno a uno Pregherei la regia Di mandare in onda Il servizio La gioia per l'esordio All'Elvia Recina È la prima in promozione Per la Cluentina In un clima di festa Per la realtà di piedi ripa Accompagnata da tanti bambini Del settore giovanile In tribuna Si è giocata la sfida interna Contro la Monterubbianese In campo A meritare il successo Sarebbero stati I padroni di casa Allenati da Mister Canesin Ma un super Alessio Osso Ha chiuso la Sara Cinesca E salvato letteralmente La propria porta L'estremo difensore Dei Fermani Infatti ha parato Un calcio di rigore Nel primo tempo E nella ripresa Si è messo in mostra Con almeno Tre interventi Importanti Sorrisi Comunque in casa Biancorossa Per una prova Più che positiva A fissare il punteggio Sull'uno a uno finale Ci hanno pensato Gian Felici E Matricardi Un esordio Che lascia Buone indicazioni Su ambo i fronti Dal lato della cluentina La dimostrazione Di poter competere In un torneo nuovo E con tante formazioni Sulla carta più attrezzate Ma la grinta Determinazione E voglia di fare Il risultato Di Gian Felici E soci Sono un ottimo Viatico Per il futuro E lasciano ben sperare Dal canto Della compagine Della Monte Rubianese Sicuramente L'obiettivo Sarà quello Di ottenere la salvezza A qualche individualità Importante La società Ha inserito Qualche pedina valida Per poter lottare Fino al termine Per la permanenza Nella categoria Andiamo alla cronaca Del match Passano appena 4 minuti E serve un super Massa accesi Per dire di no A Naziconi In area Al ventesimo L'episodio Che dà una prima scossa Alla gara Bella giocata Di Gian Felici In area di rigore Ma Raschioni Lo stende Ed è calcio Di rigore Per la cluentina Dagli undici metri Si presenta Montecchia Ma Osso Intuisce E para Si resta Sullo 0-0 Ma le occasioni Non si lasciano attendere Perché al ventiseiesimo È Montecchia Di testa A colpire la traversa Sugli sviluppi Di un corner Altro brivido Per la monterubianese I fermani Si fanno vedere Al trentaquattresimo Con un'inzoccata Iprecisa Di Raschioni Ed è l'ultima Vera emozione Del primo tempo È nella ripresa Che decolla Definitivamente Il match Al sesto Sale in cattedra Massaccesi Che neutralizza Una girata Dal limite Di Matricardi Mentre due minuti dopo All'ottavo Arriva il vantaggio Della Cluentina Prima palla toccata E super assist Del neo entrato Mancini Gian Felici Al volo Manda in rete Dal limite 1-0 La monterubianese Non sta a guardare E al ventesimo Trova la via del pari Con Matricardi Che in posizione dubbia Riceve palla E fredda Massaccesi In area di rigore La Cluentina Vuole vincere Ma sulla sua strada Trova un super osso Che da calci piazzati Non ne vuol sapere Di subire gol E al trentaquattresimo Si supera Su una punizione Di Mancini Poi si ripete Su Gian Felici Al minuto numero trentasette E ancora una volta Su una punizione Sempre di Mancini Al quarantesimo In cinque minuti Il numero uno ospite Protagonista Indiscusso E l'uno a uno finale Maturato all'Elvia Recina Di Macerata Porta soprattutto La sua firma E la monterubianese Ringrazia Mentre la Cluentina Si morde i gomiti Per le occasioni create Una sfida Che rispecchia Un po' L'andamento Molto equilibrato Della prima giornata Nel girone B Del torneo di promozione La sensazione E che proprio L'equilibrio Potrebbe essere Una costante Di questo campionato Dove a parte Cinque sei formazioni Candidate per il vertice Le altre saranno Settimana dopo settimana In campo Per mantenere la categoria Torniamo dunque In studio Dopo aver visto Le immagini Di questo pareggio Tra Cluentina E Monterubianese Cluentina che è stata All'esordio All'Elvia Recina La prima volta A Macerata E all'esordio Anche nel torneo Di promozione Mister Che partita Hai visto Dalle immagini Che ti abbiamo fatto vedere Ho visto una Bella partita Equilibrata Con occasioni Da ambo le parti Quindi Bella partita Divertente Due squadre Due squadre Sulla carta Cluentina E Monterubianese Che insieme a voi Cercheranno Di salvarsi Sì Due squadre Come noi Quindi con Lo stesso nostro obiettivo Le ho viste Molto agguerrite Non a caso Anche due turbanti Sulle teste Giocatori della cluentina Quindi Sanno significare La voglia di salvarsi Già dalla prima Monterubianese Che è una squadra Che conosci molto bene Sì La squadra del mio paese Una squadra Allenata Da un grandissimo allenatore E speriamo Di salvarci insieme Per poter festeggiare Allora Abbiamo visto Le immagini Di questa partita Dell'anticipo Insomma Cluentina Contro Monterubianese Adesso io pregherei La regia Di andare in pubblicità E ci rivediamo Tra poco qui Torniamo dunque In trasmissione Le marche nel pallone Tempi supplementari Come al solito Dedicata alla promozione E volevo fare subito Una domanda Al mister Stefano Cucu Palmenze batte Potenza Picena 2 a 1 Gol decisivo Di Raffaele Cerbone Quasi 42 anni Sì Di certo Non è Una novità Raffaele Ecco Giocava con me 20 anni fa Adesso ha lo stesso entusiasmo I gol li ha sempre fatti È un professionista Sempre Si allena Quotidianamente Arriva al campo Un'ora prima Va via un'ora dopo Si cura tantissimo Quindi Non a caso A 42 anni Ancora va come un ragazzino Senti ma a questa età Cioè qual è il segreto Di rimanere ancora Ad altissimi livelli Perché possiamo dirlo No Che Quello che sta facendo Un giocatore come Cerbone È fuori dalla norma Forse È sicuramente La fame La voglia Il temperamento Lui è stato sempre È uno molto tignoso Quindi Ha sempre voglia Di migliorarsi E Ha 42 anni Veramente Ha un entusiasmo Che Da invidiare È eccezionale Presidente Invece con te Volevo un po' Scoprire La vostra società No Raccontaci vicino a te Chi c'è Dalla mattina alla sera A condividere Gioie e dolori Dalla mattina alla sera Come ho detto prima Noi in società Il nostro non è un gruppo esagerato Siamo effettivi Siamo sei dirigenti Diciamo la parte organizzativa Dietro a me c'è il segretario Roberto Cetteroni Che oltretutto È un amico Tutto qua Ma al di là di quello Tutti Forse quello che ci contraddistingue È la nostra società È il gruppo È l'amicizia Che ci lega Per certi versi Forse Siamo molto longevi Anche per quello Però Dicevo Da Roberto Cetteroni Che è il segretario A Daniele Sandarelli Il nostro direttore sportivo Ultradecennale Nell'ambito del calcio Loris Smerilli Sergio Criccini Alvaro Fragasse Il vicepresidente Siamo un bel gruppo Certo Tu dici Come fai Sei persone A mandare avanti Una promozione Rispondo subito Noi siamo in sei È vero sì Ma Ho la fortuna Che dietro noi Abbiamo un gruppo Di persone Di amici Che Che ci seguono Ci danno una mano Ci aiutano Dimostrazione anche ieri Con la prima partita Tutta l'organizzazione Per l'entrata in campo Con gli steward Via dicendo Ecco Questo è tutto Quello che forse Distingue la nostra società Noi Organizzavamo Prima della pandemia Una festa Lì al campo A luglio Una festa Di tre giorni Una sagra E Certamente Non sono sei persone Che fanno Una sagra Ben sì Venti Trenta persone E questo È importante È importantissimo Per noi Colgo l'occasione Questo un po' Al di fuori Colgo l'occasione Nel dire che Oggi Mi ha fatto molto piacere Quando mi ha chiamato Per l'invito Per la prima Trasmissione Del nuovo anno Oggi è il vendennale Preciso Il 13 settembre Della morte Del nostro Presidentissimo Angelo Postacchini A cui è intitolato Il campo Oltretutto Dico anche che Ho avuto la fortuna Di essere suo nipote Perché È il fratello Di mia madre Quindi Ho seguito Le sue orme Per certi versi Ed è stato un grande Ecco Tutto lì Ieri abbiamo fatto Una piccola cerimonia Con Con la deposizione Di un mazzo di fiori Da parte del capitano Presso la sua lapide Che sta Che è lì Al campo E ho visto Tanta gente Che si è emozionata Ancora oggi A vent'anni Giusto ricordarlo Dai Sicuramente Senti Invece la risposta Da parte del paese E il rapporto Con l'amministrazione Ma il paese Il paese Il paese È cambiato Capodarca Capodarco Era un paese Dove c'era Un attaccamento Una tradizione Incredibile Fino A non Molti anni fa Adesso Con l'avvento De nuove costruzioni Nuovi appartamenti Nuove cose È arrivata Gente nuova A cui Logicamente Non c'è Quell'attaccamento Come potevano gli altri Però Sicuramente È un paese Che ancora Tiene moltissimo Alla sua squadra Ma non solo La sua squadra Capodarco È un paese Dove ci sono Moltissime realtà Dal gruppo Dell'Arco Fermano Che fa Le commedie A tutti i ragazzi Che organizzano Il palio Non per Non per Ultimo Certamente Il gruppo Ciclistico Cazzoli Che organizza La mitica Corsa Il 16 Di agosto È un paese Molto vivo Per certi versi Mister Torniamo invece A parlare Del vostro Girone E ti faccio Una domanda Sul Chiesa Nuova Ieri esordio Eccellente Direi no Vincente 3 a 0 Una squadra Costruita Con giocatori Importanti Iommi Monteneri Campana Mongello Giusto per Citarne alcuni E questa è un'altra realtà Che potrebbe Stare lassù E dar filo Da torcere A tutti Sì Hanno Attrezzato Una squadra Molto esperta Molto di categoria Con giocatori Che sono abituati A vincere Questa categoria Quindi La società Ha lavorato bene Sarà una Un'altra squadra Che lotterà Fino alla fine Per stare lì davanti Sicuramente Allora Sabato Noi abbiamo Visto e seguito Anche L'esordio Della maceratese A Porto Recanati Il match È terminato 1 a 1 Andiamo Ad ascoltare Il servizio Di Lorenzo Ottaviani Termina 1 a 1 La gara Di esordio In campionato Tra Porto Recanati E maceratese Ed è un pareggio Accolto con diversi Stati d'animo Dalle due squadre Soddisfazione legittima Per gli arancioni Che in dieci Per buona parte Del secondo tempo Hanno sfiorato L'impresa Ed è ricriminazione Per i biancorossi Che hanno sciupato L'occasione Della prima vittoria Con la superiorità numerica E per le grandi parate Nel finale Del portiere locale Partita divertente Giocata a buon ritmo E con in campo Due giocatori Sopra gli altri Il capitano Pantone Per il portore Canati Autore del momentaneo Vantaggio E di una prova maiuscola E di Sassamastro Nunzio Entrato nella ripresa È protagonista Di tutti gli episodi Chiave del match Per la maceratese Si inizia Con 250 spettatori Sugli spalti Del Monaldi 150 Tifosi giunti Da macerata Stretti Intorno alla loro squadra Per la stagione Dell'agognato riscatto Al decimo La prima occasione Del match E della maceratese Angolo di Pucci Colpo di testa Di Lapi Con palla Che si perde Di poco al lato Al tredicesimo Arriva la risposta Dei padroni di casa Sempre da calcio piazzato Dopo una mischia In aria bianco-rossa Donati riesce a trovare La conclusione Che si perde Di poco sul fondo Diciassettesimo Occasione Per il portore Canati Pasticcio di Giustozzi In uscita Pallone Che arriva a Pantone Che fa partire Una conclusione Con un inquadra di poco Lo specchio della porta Maceratese Che prova a fare la gara Ma il portore Canati Si difende bene Con le linee Molto compatte Ventottesimo Occasione Per i bianco-rossi Cross dalla destra Di Massey Colpo di testa Di Lapi Che però trova Una gran risposta Di Piangerelli Quarantunesimo Pericolosi Padroni di casa Con Pantone Che fa partire Una bella conclusione A giro Che trova La pronta risposta Di Giustozzi Sul ribaltamento Di fronte Pericolosa La maceratese Con Giaccaglia La cui conclusione Si spegne Di poco a lato Tutto qui Il primo tempo Che termina Sul punteggio Di 0-0 Ripresa più movimentata Al nono Occasionissima Per la maceratese Bella manovra Dei bianco-rossi Con Zandri Che entra in aria E dopo un rimpallo Arriva la palla A Tittarelli Che tutto solo A due passi Dalla porta Calcia alto Divorandosi Il gol Del vantaggio Entra Sassamastro Nunzio E cambia Il gioco d'attacco Della maceratese Quindicesimo Padroni di casa In dieci Spulso Angelici Per somma Di cartellini Ventiduesimo Pericolosi Bianco-rossi Palla filtrante Per Mastro Nunzio Ma la sua conclusione Viene stoppata Dall'uscita provvidenziale Di Piangerelli Al ventiseesimo Il calcio di rigore Per i padroni di casa Pantone Viene atterrato in aria Per il direttore di gara E penalti E dal dischetto Lo stesso Pantone Trasforma il rigore Portando in vantaggio Il porto dei canati Botta e risposta Al trentaquattresimo Calcio di rigore Per la maceratese Concesso Per trattenuta In aria Sommastro Nunzio Dagli undici metri Tittarelli Spiazza Piangerelli E riporta la partita In parità Uno a uno Finale Tutto della maceratese Con un porto dei canati Stanco che stringi i denti Al quarantacinquesimo Maceratese Pericolosissima Prima ci prova Ripa Con una conclusione Sulla quale risponde Presente Piangerelli Sulla respinta Si avventa Cirulli Ma ancora Piangerelli È miracolosa A negare il vantaggio Alla rata Ultimo guizzo Di bianco-rossi In pieno recupero Quarantaseesimo Angolo di Pucci E colpo di testa di Ripa Con la palla Che si perde Di pochissimo a lato Termina così Uno a uno La gara di esordio Tra porto dei canati E maceratese Del campionato di promozione Girone B Allora mister Nocera Una partita Che ha visto la maceratese Pareggiare qui al Monal Di Porto Recanati Una partita Che potrebbe essere Lo specchio Della stagione Della maceratese Dove affronterà Queste squadre Che si chiuderanno molto Ma io direi Che il Porto Recanati Non si è chiuso Si è giocata la partita E forse Se tu hai visto bene La prestazione Nel primo tempo Dobbiamo fare gol Perché quando non fai gol E crei tutte quelle occasioni Ci può capitare Che su una palla sporca Come è successo È scappato fuori un rigore Per loro Quindi abbiamo fatto tutto noi Abbiamo sprecato Al primo tempo Siamo andati sotto Nonostante cercavamo Il gol del vantaggio Abbiamo ripreso la partita E secondo me Se non c'era un ottimo portiere Come Piangerelli Del Porto Recanati Ha fatto secondo me Delle parate strepitose Stavamo qui a parlare Di una vittoria Nonostante Delle pecche Di non essere stati Bravi sotto rete Nel primo tempo Quindi abbiamo fatto tutto noi Nel secondo tempo Sicuramente l'ingresso Di Mastro Nunzio Ha cambiato un po' la partita L'ha davanti Ha smosso E lui che si è procurato Il calcio di rigore Che poi di Tarelli Ha trasformato Ma Mastro Nunzio Ce lo teniamo stretto Lo stiamo portando in condizione Perché ha saltato La preparazione E quindi Oggi C'era bisogno Del suo aiuto Non si è tirato indietro E anche se non aveva Minuti nelle gambe Subito ha dato La sua esperienza A disposizione Di questi ragazzi Quindi secondo me Ci sarà molto utile Se non determinante In questo campionato Perché abbiamo una squadra Sì forte Ma molto giovane Ora il prossimo impegno Vedrà la maceratesa All'Alvia Recina Tra le Muramiche Contro la Futura 96 Un altro match Che la maceratesa Dovrà sicuramente portare A casa i tre punti Ma noi tutte le partite Dobbiamo cercare di vincere Però poi ci sono tante componenti L'importante è avere Continuità di risultati Migliorare sempre Dove si sbaglia E poi alla fine Vediamo chi ha fatto più punti Però l'importante È che si cresce sempre Di partita in partita A cominciare dal giocatore Che tu hai detto prima Che ha saltato Tutta la preparazione Quindi nel momento In cui sarà in condizione Sicuramente sarà Un'arma in più per noi Mister Ciccarelli Grande prestazione Al suo portore Canati Questa si può considerare Un'impresa anche visto l'uomo In meno nel secondo tempo Portare a casa un punto Contro questa maceratesa Sì abbiamo fatto Sotto il punto di vista Agonistico Un'ottima prestazione Abbiamo provato anche a giocare Però contro una maceratese Con una rosa Costruita per la vittoria Non è facile per nessuno Sapevamo che sarebbe stata Molto dura Avevo chiesto una prova Di forza Di coraggio Di abnegazione Abbiamo lavorato Il 19 di luglio Per iniziare col piede giusto E i ragazzi Mi hanno ripagato Con un'ottima prestazione Soprattutto dal punto di vista Dell'atteggiamento Era importante partire Con il piede giusto E l'abbiamo fatto Nella migliore dei modi Con il suo portore a Canati Ha il compito Di valorizzare questi giovani Oggi ne abbiamo visti Tanti in campo Giovani coraggiosi Volenterosi E molto forti Sì Abbiamo un vivaglio Che punta molto Sui giovani Lavora Impiega Molte risorse Tempo E appunto Adesso stiamo raccogliendo I frutti Che seminiamo in basso È entrato il secondo tempo Con il 2005 Abbiamo giocato con il 2001 2002 In panchina Quasi tutti under Quindi ecco Il lavoro alla base Ci sta ripagando Con ottimi risultati Una parola sul capitano Marco Pantone Anche oggi Uomo di assoluta categoria A Marco Pantone Non c'è bisogno di dire nulla Tanto lo sappiamo tutti Con me È un uomo È il primo ad arrivare all'allenamento È l'ultimo ad andare via Non manca mai Lavora sotto Anche quando non ci alleniamo Lui si allena per conto suo E quindi i ragazzi Prendono ispirazione Da persone come lui Quindi È il capitano È il leader del gruppo Quindi ce lo teniamo ben stretto Ora come prosegue Il cammino Il suo porto Recanati Già dalla prossima partita Saranno tutte partite dure Per noi Perché come dicevo Una rosa Un po' inesperta Però ecco Conto molto sull'entusiasmo Dei ragazzi Adesso Già da lunedì Inizieremo a preparare la partita La trasferta di 100 buchi E Andremo a giocarci L'avviso aperto Come abbiamo fatto sempre Come abbiamo provato a fare oggi E poi il campo Darà il risultato Che meritiamo Torniamo dunque in studio Dopo aver visto le immagini Di Porto Recanati Maceratese Stefano Te l'aspettavi un pareggio Dalla Maceratese all'esordio? Sinceramente no Perché Diciamo Il blasone E l'organico Sono molto diversi È venuto Perché La palla è rotonda La maceratese Ha sprecato Ho visto Tantissime occasioni Quindi per ovvi motivi È venuto fuori Un pareggio Un piccolo errore Ecco Sul scaccio e rigore Altrimenti avrebbero vinto Però ci sta Ho visto una maceratese Molto Veemente Quindi ha creato Tantissime palle goal Speriamo Che domenica Ne facciano un po' di meno Che Abbiamo lo stesso esito Ecco Domenica C'è La tese Futura 96 Un esordio In trasferta Abbastanza complicato Per voi Sì Diciamo Se non avessi visto Il servizio Era più sereno Dovremmo lavorare Molto in settimana Perché è una squadra Ecco Che Crea molto Crea molto Vabbè Dopo gli attaccanti Tittarelli Soprattutto Mastro Nunzio Sono di assoluto valore Quindi Saranno Sorvegliati speciale Quindi ecco Sarà difficile Dovremmo correre Sicuramente Correre più di loro Per cercare di fare bene Come pensi di organizzare La settimana A livello di allenamenti Noi ci alleniamo Di solito Tre allenamenti Lunedì Martedì E giovedì Quando giochiamo La domenica Ne facciamo quattro Faremo martedì Mercoledì Giovedì E sabato mattina Orario di allenamento Serale Sì Purtroppo abbiamo gente Che lavora Prima delle sette Un quarto la sera Non riusciamo a cominciare Ecco Su questo tema Tu che È una vita Che sei in campo Allenamento serale Allenamento pomeridiano Quali sono i pro E i contro E quale Insomma Se tu dovessi scegliere Qual è la tua linea Diciamo che la scelta È molto semplice Potendo È assolutamente In dubbio Che allenarsi il pomeriggio Ha dei vantaggi Grandissimi Soprattutto nei momenti Quando uno ha da fare qualcosa Più Con più pause Farlo d'inverno La sera Che è meno uno Due gradi Che i giocatori Si possono freddare Rischi solamente Di fare infortuni Quindi Ti devi adattare Poi Ovviamente Se uno sale una sera Perché la gente lavora Quindi devi Cercare di Fare un lavoro Meno Aggressivo Un po' più dolce Ma che magari Ecco uno È anche stanco Della giornata Lavorativa Quindi c'è Stare un po' più Di svago Un po' più Di Di gioco Ecco Presidente Domenica Andrete Voi come dirigenti E come squadra All'Elvia Recina Comunque Sarà una soddisfazione A prescindere dal risultato Immagino Ma quello sicuramente Sono sempre Stadio Io lo chiamo Stadio Perché L'Elvia Recina Si può definire Soltanto così Dove già Quando entri Ti fa Ti fa L'impressione Però questo Non significa Partire battuti Partire battuti O intimoriti O meno Anzi Secondo me È uno stimolo In più Che da Sia Ai giocatori Anche a noi I dirigenti A tutti Per cercare sempre Di fare bene E possibilmente Come diceva il mister Di riportare a casa Qualcosa di positivo Mister Il tuo modulo preferito? Ma io Moduli sinceramente Li faccio in base A giocatori Che ho Quest'anno Adattiamo Un modulo diverso Rispetto agli altri anni Non avendo Tanti giocatori di fascia Quindi Abbiamo cambiato Qualcosina Ogni tanto Ci adattiamo Però Cerco di mettere In campo la squadra Nel modo migliore Per far rendere I giocatori Per come gli piace Giocare Per come Si trovano meglio Senti Sul discorso Under Dove li stai impiegando E dove pensi Di impiegarli Nei ruoli Di Under Abbiamo un portiere Che sta crescendo Un 2003 Che sta Che ha fatto benissimo A Civitanova E speriamo Ci dia una grossa mano Anche in futuro Abbiamo due Terzini Modesto Sinistro Sono nel 2001 E abbiamo Un attaccante Quattro centrocampisti Quindi I ruoli Sono questi Più o meno Sono ragazzi Molto volenterosi Quindi questa è la prima La condizione Essenziale Affinché un ragazzo Ci dia una mano E affinché Possa crescere Quindi sono soddisfatto Di questo Non è stato facile Per la società A scegliere I giovani Perché Purtroppo O per fortuna Tutti ambiscono A piazze più importanti Categorie più importanti Quindi l'eccellenza Quest'anno ha messo Un giovane in più E tutti hanno preferito Magari provare In eccellenza Dove Alcuni sicuramente Troveranno Pochissimo spazio Piuttosto che Venire magari Da noi Dove Sicuramente Avrebbero Fatto Diverse Partite Sicuramente Da noi Un giovane Giocherà Con il mercato Aperto Presidente C'è in ballo Qualche sorpresa Oppure la rosa Rimarrà questa Ma Momentaneamente Siamo Siamo questi Diciamo Però Ciò non toglie Che se capiterà Qualcosa di appetibile O farà Al caso nostro Non è detto Che il nostro Direttore Si muoverà Per rinforzare Per rinforzare La squadra Questo è sicuro Mister Abbiamo parlato poco Della Civitanovese In questa serata Voi invece L'avete incontrata La prima domanda Che ti faccio Seppur quella Magari era una partita Di coppa E poteva avere Un valore Tra virgolette Inferiore rispetto Al campionato Che impressione ti ha fatto Quella Civitanovese Sicuramente È una squadra Che ha Dei singoli Forti Era la prima partita Anche per loro Noi abbiamo avuto Il vantaggio Di essere una squadra Già Tra virgolette In rotata Loro Un allenatore nuovo Diversi giocatori nuovi Quindi hanno trovato Più difficoltà di noi Quindi Però io ho visto Giocatori Soprattutto sugli esterni Molto pericolosi E una volta Che rientreranno Come dicevi tu Gragnoli e Batista Esatto Due giocatori Di assoluta qualità E riusciranno A far quadrare Il cerchio Sarà Forse La squadra Favorita A livello di nomi Possiamo dire Un Ruggeri Che ha avuto Una carriera Ottima In Serie D Con il Tolentino E che adesso Fa la promozione Un Bangura Che addirittura Ha fatto la Serie C Quindi ha fatto Anche il professionista In mediana A centrocampo Secondo me È la mediana Più forte Di tutto il girone Perché Visciano e Perfetti Sono un gradino Soprattutto A mio avviso Balloni come esterno Come dicevi tu Esterno offensivo È fortissimo E davanti Gragnoli Giorno Bischuk Russo Sono tutte frecce Importanti Sì sì È un organico A livello tecnico Eccelso Dopo bisogna Come dicevo prima Trovare la quadratura Del cerchio Hanno secondo me Qualche giocatore Simile Quindi dovranno Riuscire a A gestire bene Gli equilibri Ecco una cosa Che ho notato Nelle rose Di queste prime 5-6 No Nessuna Ha una rosa Lunghissima O meglio I titolari Non sono paragonabili Alle cosiddette riserve Tutti chiaramente Dicono che hanno rose Lunghissime E sono contentissimi Però Se andiamo ad analizzare Le formazioni E soprattutto In quest'annata Post-covid O comunque Purtroppo Ancora con il covid Tra le scatole Infortuni Problematiche Di vario genere Forse saranno Maggiori Del passato E in più Questo è un campionato Con 5 cambi Che permette 5 cambi E le partite Spesso Vengono vinte Proprio dalla panchina La domanda Per te E è questa Realtà Soprattutto come Macerata E Civitanova Hanno Secondo te Il bisogno Di allungare Questa rosa Proprio Vedendo tutte queste situazioni Che potrebbero capitare Beh Io penso Che la città Novese Forse Non sia Così corta Come Dicito Come Rosa Cioè Dietro Anche altri giocatori Di qualità Forse non Eccelsa Come gli altri Ma sicuramente Molto buoni Per la categoria La maceratese Non lo so Perché sinceramente Ecco Negli 11 È fortissima Dietro Mi deve ancora arrivare La relazione Quindi Se venivo Magari tra qualche giorno Sarei stato più preciso E Però ecco Avendo Per forza di cose In Rosa Molti giovani Allungarla troppo Significa Creare malcontento Quindi sì È vero avere Un paio di ricambi Per ruolo Due attaccanti in più Due centrocampisti Due difensori Se uno vuole fare bene È indispensabile Però averne troppi Non so se possa Sortire l'effetto Contrario Anche perché Stiamo in promozione Quindi Cioè Molti giocatori Non giocando Si svogliano Facilmente Senti Sabato La Civitanovese È sortito in casa L'Atletico Centobuchi 1-1 Atletico Centobuchi Che è un'altra squadra Che abbiamo menzionato Tra le big Con tanti giocatori Importanti A mio avviso È stato un esordio positivo Per loro Per la Civitanovese Perché vincere a Centobuchi Sarà difficilissimo Per tutti Sì sì Sicuramente Poi È sempre la prima partita Che crea Delle incognite Delle difficoltà Inaspettate Quindi Ci sta tutto Poi A Centobuchi Un campo difficile Una squadra Come Quella che abbiamo Prima citato Quindi Da squadra di vertice È un risultato Penso Un ottimo risultato Allora Noi siamo nelle battute finali Di questo primo appuntamento Stagionale Con le marche nel pallone Tempi supplementari La trasmissione Interamente Dedicata alla promozione Ringraziamo i nostri ospiti Partendo dal presidente Della Futura 96 Fausto Rogante Grazie Buonasera 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 a tutti E all'allenatore Sempre Della Futura 96 Stefano Cucu Grazie Grazie a voi Buonasera A noi Non resta che E augurarvi Una cordiale Buona serata E arrivederci A lunedì prossimo Un po' di mercato è preso Giuliano Proprio sullo finire Della calcia americata Firmato Biennale Con lo spi Ciao E qua E questa è Leonie Sì, 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 sì. In collaborazione con Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. I Due Re, ristorante e pizzeria, lungomare Piermanni, Civitanova Marche.